È stato un brusco passaggio a vuoto quello subito ieri dalla maggioranza del sindaco di Corato, Corrado De Benedittis. Il Consiglio Comunale non ha infatti approvato i debiti fuori bilancio a favore dell'ASIPU risalenti alla gestione commissariale del 2020. Già nella scorsa seduta erano stati rinviati a causa della mancanza del numero legale determinata dal dissenso dei consiglieri Colonna Arsale e Tarantini che abbandonarono l'aula insieme alle opposizioni. A motivare tale decisione fu proprio il consigliere Arsale appartenente alla lista del sindaco perché riteneva che i documenti presentati non offrissero le a meno sufficienti garanzie necessarie e ciò nonostante il dirigente certificarsi il contrario. I debiti in questione sono tre per un totale di circa 125 mila euro e riguardano la guardiania e pulizia dello stadio, servizi a supporto delle attività culturali e alcuni servizi straordinari. Ieri in seconda convocazione il risultato è stato di 11 a 11 insufficiente ad approvarli. A determinare il pareggio la nuova assenza dei consiglieri Colonna Arsale e Tarantino e il voto contrario di altri due consiglieri di maggioranza o presunti tali, Mascoli, ex PD e ora nel gruppo misto, e la dintrono che sta nel PD ma di fatto è all'opposizione. Il loro voto si è infatti aggiunto a quello delle minoranze, compresi i quattro consiglieri di dimensione Colato, che in altre circostanze per debiti a favore dell'Asipu avevano votato a favore. Il pareggio consente comunque di riportare i provvedimenti in una prossima seduta, quando magari le cose saranno più chiare e soprattutto si capirà se quella di ieri è stato solo uno scricchiolio e una cripa che tenderà pericolosamente ad allargarsi.